Voglio mandare un saluto pure al governo. Quota 100, come vi ho detto, non funziona, ma anche il reddito di cittadinanza, ma di cosa stiamo parlando? Ci raccontano che bisogna fare una norma sul salario minimo, che sia con la scusa per quelli che non sono coperti. Quando abbiamo dovuto presentare per decreto legge quella riforma delle pensioni, l'abbiamo presentata più che discursa con il leader delle federazioni sindacali, che poi non hanno colto quello per fare una specie di rivolta sociale. Ci sono state qualche settimana dopo due ore simboliche di sciopero. Perché se un cambiamento c'è stato, non è stato certo meglio. Quando ancora dobbiamo dire che il paese è fermo, che non c'è nemmeno l'ombra di quelle prospettive di crescita che sono necessarie, che l'indice della produzione industriale è in caduta libera. Ma di cosa stiamo parlando? Lo diciamo qua con grande chiarezza, per noi il salario minimo sono i contratti nazionali delle nostre categorie. Ma di cosa stiamo parlando? Il percorso è lungo, sciopero dei lavoratori meccanicalici, sciopero dell'Italia, manifestazione unitaria dei pensionati, manifestazione unitaria del pubblico spiego. Due ore simboliche di sciopero. Ma di cosa stiamo parlando?